Centiri telespettatori, buona giornata. Per quanto riguarda la manovra economica che deve essere approvata entro il 31 di dicembre, ci sono tante richieste strampalate, dalla difesa del DNA sardo alla nutrizione vegetale. Frank si nutre e Frank si natra. E quindi una vera e propria selva di cretinate nella manovra. Sono praticamente delle proposte di modifica solo per rallentare il processo. E voi direte, ma l'Italia deve presentare una finanziaria? Se non la presenta entro il 31 è un disastro? E c'è chi cerca di impedirla facendo un danno al paese per fare dei giochini politici? Sì, ovvio. Quindi i partiti e i politici non pensano all'Italia ma pensano a se stessi? Sì, questo l'avevamo già capito. Chi non l'aveva capito ancora può essere convinto. Quindi micro proposte, micro interventi, gli emendamenti cosa sono? Delle proposte di modifica, di inserimento di nuove cose nella legge che si sta discutendo. Prima legge di bilancio del governo Meloni. Prima legge di bilancio del centrodestra. I deputati si sono sbizzarriti. Spesso ci sono richieste legate al territorio di provenienza che non tengono conto di tutto il quadro, di dove si trovino. Ecco. Intanto, a parte le richieste strampalate, in un momento dove soldi non ce n'è, tutto va per il taglio alle bollette, l'inflazione, l'energia. Naturalmente ci saranno anche gli uffici preposti che cercheranno di capire se le domande o emendamenti sono ammissibili o no. Quindi se sono ammissibili le domande, cioè sono coerenti a quello che si sta parlando, verranno magari accettate come domanda. L'emendamento poi è una domanda a cui il Parlamento dovrà rispondere, oppure verranno decisamente scartate. Così dentro queste proposte, questi emendamenti, abbiamo l'autorizzazione di spesa chiesta dal Movimento 5 Stelle di 200.000 euro a decorrere dal 1 gennaio 2023 per il finanziamento dell'Associazione dell'identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo. Ricordate Abba Tantuono quando gli dicevano che aveva combinato qualcosa che lo mandavano a fare il poliziotto in Barbagia? E quindi i 5 Stelle vorrebbero 200.000 euro per finanziare l'Associazione dell'identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo, un comune in Sardegna di circa 800 abitanti, al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo. Sempre i 5 Stelle c'è anche quella che prevede come proposta un incremento di 200.000 euro annui a decorrenza dall'anno prossimo del contributo all'Associazione Culturale Villa Vigoni, centro italo-tetesco, per il dialogo europeo con sede a Menaggio sul Lago di Como. I 5 Stelle guidati dal loro leader Giuseppe Conte mirano poi in alto, eh sì, alla reintroduzione del programma di attribuzione di rimborsi in denaro. Eh? L'ormai celebre, quasi mitologico, cashback. Ah sì, beh loro sono così, loro ripetono sempre le stesse cose, o dicono no, o ripetono sempre le stesse bagianate. E al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici è ripristinato a decorrere dal 1 giugno 2023 per gli acquisti effettuati con riferimento a dei periodi futuri. E così è scritto nella proposta di modifica che reca come prima firma proprio quella di Giuseppe Conte con uno stanziamento di risorse pari a ben 3 miliardi di euro. Ecco, in una finanziaria dove non ci sono i soldi per niente, stanno tornando indietro molte promesse nella finanziaria proprio per mancanza di soldi e a Conte viene in mente il cashback da 3 miliardi di euro, proprio soldi buttati via, soldi completamente buttati via. Ed è incredibile che Conte non riesca a capire anche l'insensatezza di queste proposte. Ci sono poi le proposte per la ricostruzione dei comuni colpiti dai sismi in Irpinia in Basilicata 1980-1981 con la costituzione da parte della regione Campania Basilicata di un fondo unico. Poi Sinistra e Alleanza Verdi con Fratoianni rilanciano delle loro battaglie storiche vecchie che non hanno niente a che vedere col presente e poi abbiamo Sinistra e Alleanza Verdi insistono sulla patrimoniale, introdurre una bella patrimoniale, una bella imposta straordinaria sui grandi capitali. E poi, limitatamente al 2023, un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni, la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie posseduta, ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche. Insomma, contributo di solidarietà poi da destinare al trasporto pubblico e al lavoro per i giovani, dice Bonelli, spiegandolo su Twitter. Poi ci sono le iniziative culturali con diverse proposte, poi ci sono anche delle proposte sulla nutrizione bilanciata. Ecco, questa si legge in un emendamento di Fratelli d'Italia, per disposizioni per rendere progressivamente accessibile a tutte le fasce di reddito la nutrizione bilanciata, anche attraverso l'apporto fornita dalle proteine vegetali, con maggior oneri derivanti pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023. Insomma, dalla nutrizione bilanciata alle sciocchezze dei 5 stelle sulla tutela del DNA sardo, insomma, va bene. Cosa vi devo dire? Queste modifiche, questi soldi, 200 mila, 3 milioni, sul totale di una finanziaria da 30 o 35 miliardi, 200 mila euro non sono niente, però naturalmente tante cose da niente fanno un numero enorme. Grazie a tutti e arrivederci.